Ciao a tutti, io sto andando allo store della Scavolini di Urbino e lì finalmente progetterò quella che è la mia cucina da sogno. Spererei proprio di vincerla perché ne ho una necessità assoluta. Sono appena arrivata davanti allo store di Urbino e niente, oddio mi sembra un sogno. Già dalla vetrina vedo un mucchio di cucine che vorrei a casa mia. Abituata come un frigo, alto un metro, questo è proprio il mio sogno. C'è l'ho, abbiamo fatto il progetto. Eh, ma scusate, ma che punizione deve essere? Guardare tante cucine stupende, progettare la propria e non vincerla. Vi prego, votatemi! Vi prego, vi prego, vi prego! Giuro che se davvero la vinco... Anzi, scusate, ho ucciso l'italiana. Giuro che se dovessi vincerla, ho chiaro da bere a tutti quelli che mi hanno votato.